In qualunque modo mi giudichi, la cosa non ha alcun impatto su di me, perché sono completamente sballato. Ma non ho dato a nessuno questo privilegio, che qualcuno possa rendermi felice o qualcuno possa rendermi infelice. In ogni momento potremmo fare qualcosa di sbagliato, per cui diamo ascolto a tutti, ma ciò che dicono non determinerà il modo in cui sono. Ma è lei che ha perso il giudizio e tu? Lei non vuole che tu. So my question is, whether it is alcohol or not, in life, why are we so apprehensive about being judged by others? And how can we not let this come on our way of being happy? Vedi, io sono sempre sballato. Mai toccato nessuna sostanza, ma sono sempre sballato. Puoi giudicarmi come credi. Perché la cosa è che sono sballato in un modo tale che non ho perso affatto la mia capacità di giudizio. E al tempo stesso, in qualunque modo tu mi giudichi, la cosa non ha alcun impatto su di me, perché sono completamente sballato. Detto questo, il motivo per cui questo consumo di alcol e droghe sta crescendo in questo modo nel mondo è Questo capita perché il paradiso è crollato. Sì, ero a Bangalore proprio 3-4 settimane fa. C'erano più di 8000 persone a fare un programma di due giorni con me. E così per caso ho chiesto, quanti di voi pensano che andranno in paradiso? Solo in cinque hanno alzato la mano. Allora ho chiesto, siete tutti quelli dell'inferno? No, il fatto è che paradiso e inferno sono crollati nella mente della gente. È la prima volta nella storia dell'umanità che così tanta gente al mondo riesce a pensare con la propria testa. In passato era un prete, un mullah, un pandito oppure un libro che pensava al posto tuo. La prima volta che così tante persone riescono a pensare con la propria testa che pensino giusto o persino sbagliato, ci sono molte questioni a riguardo. Che pensino giusto o sbagliato, ad ogni modo pensano. Quindi tutte le cose illogiche stanno crollando in maniera naturale. Questa generazione non si è comunque completamente staccata da ciò. C'è ancora paura. Non riescono a dire apertamente non c'è nessun dannato inferno o paradiso. Sono ancora timorosi a riguardo. Ma stanno cercando di crearsi un piccolo paradiso per loro qua giù. Quindi, ehi, calma, calma. Quindi, naturalmente, quando non sono capaci di crearlo da soli, usando solo la loro intelligenza, ricorrono alle sostanze chimiche. Al giorno d'oggi, giusto per prendere le società molto agiate, perché ogni società aspira ad esserlo, diciamo, prendi gli Stati Uniti, che sono la nazione più agiata del pianeta al momento. Il 70% della popolazione degli Stati Uniti assume sostanze su prescrizione medica. L'altro 30%, naturalmente, le compra per vie traverse. Il paese più ricco. Evidentemente, la giatezza non funziona. Per essere in salute hai bisogno di sostanze chimiche. Per provare gioia hai bisogno di sostanze chimiche. Per sentirti in pace hai bisogno di sostanze chimiche. Per andare in estasi, ovviamente, c'è l'ecstasy. Quindi, non lo sto nemmeno guardando da un punto di vista morale. Non è mai una questione morale per me. Se il 90% della popolazione attuale assume sostanze chimiche, credetemi, la generazione futura che produrremo sarà una generazione di gran lunga inferiore a noi. Se produciamo una generazione futura inferiore a noi, abbiamo commesso un crimine verso l'umanità, perché la generazione futura deve essere almeno un passo avanti a noi, altrimenti l'abbiamo persa. Abbiamo perso l'intero processo di civilizzazione, nel momento in cui produciamo una generazione futura che di fatto è inferiore a noi. Per cui ci stiamo dirigendo rapidamente verso questo, a meno che non insegniamo ai singoli individui come stare semplicemente seduti qui e andare in estasi. Sono abbastanza sballato o no? Guardami bene. Sono abbastanza consapevole, abbastanza sveglio, abbastanza lucido. Se c'è un modo per sballarti senza perdere il giudizio, senza perdere la consapevolezza, senza perdere l'intelligenza, è una cosa fantastica. Lo sballo è una cosa fantastica. L'unico problema è che ti toglie il giudizio, ti toglie l'intelligenza, ti disabilita. E' quello il problema, giusto? E' vero. Chiedi a chiunque, anche se non studi medicina, ma chiedi a chiunque. E' vero che questo corpo è la fabbrica chimica più fantastica dell'universo in questo momento, perlomeno dell'universo che conosciamo? L'unico problema è che sei un pessimo manager. Se sapessi come gestire questo, saresti come me, sempre in estasi. Chiunque può dirmi quello che vuole, può farmi quello che vuole, ma questo rimane così, perché non ho dato a nessuno il privilegio di rendermi felice, di rendermi infelice, di rendermi miserevole. In questo momento sei la conseguenza delle opinioni degli altri. Dove pensi di arrivare in questo modo? Chiunque ti può rovinare. Supponiamo che tu vada in giro e qualcuno ti dica, Shreya, sei la creatura più meravigliosa che abbia mai visto. Allora ti staresti librando al cielo. Che numero? Nove? Nove? Oh, al sud diciamo all'undicesimo. Tu ti sentiresti al cielo, qualunque numero sia. Poi torni a casa e i tuoi ti dicono come sei veramente. E il cielo ti crolla addosso. No, no, è molto importante che non sia né in un modo né nell'altro. Diamo ascolto a tutti, perché potremmo star davvero facendo qualcosa di sbagliato. Allora? In qualsiasi momento potremmo fare qualcosa di sbagliato, quindi diamo ascolto a tutti. Ma ciò che diranno non determinerà il modo in cui sono. Mai e poi mai. Questo devi risolverlo e devi dirlo alla tua amica quando non è ubriaca, altrimenti non lo capirà.